Allora adesso c'è il ritorno da Londra, mio marito, quando eravamo a Londra che si andava in giro così, aveva sempre la disperazione della borsa, tenete la borsa bene, tieni la borsa ben davanti perché ti possono portare via questo, quell'altro dal portafoglio e io sempre con la mia borsa e lui girava col suo borsello, ma sto borsello ogni tanto era aperto, dicevo com'è che si è aperto e chiudevi il suo borsello senza tanto pensare e via. A un certo punto è l'ora del ritorno, c'è il collettivo di persone per la spiegazione, andare sul pullman, però prima guardate tutti i vostri documenti se li avete, allora io vado nella mia borsa, il mio documento c'era, ma mio marito nella sua borsa non aveva più i documenti, disperato, adesso andiamo in questura all'aeroporto, dice l'accompagnatrice, andiamo in questura all'aeroporto, arriviamo all'aeroporto e ci fanno un foglio di un visto per il rientro, fortuna che eri rientro perché non potevamo più fare il viaggio se era l'andata, e via, andiamo su quest'aereo, un po' più piccolo quello del ritorno, dell'andata, ballava un po' a disperazione, io piangevo dalla paura, finché arriviamo, arriviamo, dovevamo arrivare a Milano, però ci annunciano che a Milano c'è la nebbia, non si può scendere, ci fermano su, dovevamo andare a Genova, la pista di Genova era occupata, dovevamo perdere del tempo in cielo, l'aereo è cominciato a girare in tondo, aspettare che si liberasse la pista, insomma anche lì a disperazione, ne vedevo il mare sotto, dicevo a finire che succede, e niente, insomma, riusciamo ad atterrare a Genova. Allora si passa per la dogana, dove ci dovevano, e mio marito, ho detto, stai attenta, fai l'indifferente perché se ti vedono un pochino così, ma io ho incominciato a tremare, col pensiero che mi dovevano per inquisire, e gli altri, mio marito, che mi sono passato, e arrivo io, mi fermano proprio, e mi aprono la valigia, mio marito è disperato, e lo sapevo io, però mi apro la valigia, e non c'era niente, perché io sono pulita, e via c'è il pullman che ci aspetta, saliamo tutti in pullman, e comincia il viaggio per Milano, cominciato una nevecata, una nevecata che mai, su per queste montagne che dovevamo, insomma anche lì, avevamo preso una bottiglia di cognac, ce la siamo bevuto tutti da un freddo che avevamo, e via arriviamo a Milano, a Milano invece non c'era niente, c'era neanche la nebbia, arriviamo a Milano che erano le due di notte, andiamo in garage a prendere la nostra macchina, e ci incamminiamo sull'autostrada, a un certo punto arriviamo a Reggio Emilia, una nevicata, c'erano le macchine tutte rivoltate, non era proprio dal ghiaccio che c'era, le macchine tutte là, un po' di qua, un po' di là, tutte ferme, insomma per arrivare a Forlì ci abbiamo messo piano piano, siamo riusciti ad arrivare a casa, è stata a casa proprio una nevicata tremenda, e così è stata la fine del mio viaggio a Londra, siamo arrivati a casa alle 5 del mattino, e io ho dormito tutto il giorno dopo dalla disperazione, dalla stanchezza.